Perché noi che giochiamo per la filosofia contano e risultati che se io fossi Mancini viene meno. Ma se uno comincia a dire che noia ma no è semplice ma cosa c'entra ma dai tanto in fondo basta che li metti insieme si trovano loro perché questa è si trovano loro invece Mancini ragiona così ne faremmo meno ma cazzo poi abbiamo il contrario ma abbiamo il contrario davvero abbiamo il contrario davvero